Oggi dall'Ucraina sono andata con i bambini, ho lasciato il marito che è in guerra. Il marito è mobilizzato, io sono arrivata oggi con i due bambini, con mia mamma e il suo marito italiano che è malato. Siamo rimasti qui senza casa, senza niente. Con i bambini a mano, che la guerra, mio marito è da solo lì in guerra e che fa la guerra per noi, per i nostri ucraini. Speriamo che questo putti... Io non so neanche cosa dire perché non ho parole, però la gente scappa perché non so di cosa fare. Aiutateci voi, aiutateci con le case almeno, per i vostri bambini che sono piccoli e vogliono vivere. L'unica cosa è vivere perché con i bambini questi piccoli dobbiamo farci tutto per loro, per questo scappiamo tutti. Aiutateci, vi prego, per le case almeno. Grazie. 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 Grazie.